ciao a tutti amiche ed amici benvenuti bentrovati valoro sepponati che è qui oggi per la prima volta facciamo un video un po particolare una lettura che non va a cogliere specificatamente gli aspetti della vostra vita sentimentale con rispetto parlando ma oggi vedremo magari anche quello ma principalmente una situazione un po più all inclusive quindi ovviamente a parte ecco tutti gli aspetti eventualmente ecco che emergessero da questa stesa ma voglio dire ovviamente riguarda tutti quanti vale in questo senso per tutto l'anno quindi da adesso a fra un anno quindi i prossimi 12 mesi e come vedete qui abbiamo la ruota dell'anno c'eravamo lasciati con sowain come diciamo ecco festa pagana ricordandovi sempre che tutte le festività pagane in ogni caso sono state trasposte nel calendario cristiano conservandone anche come dire ecco le caratteristiche tipo l'albero di natale tipo a sowain la festa diciamo ecco dei fedeli defunti o di tutti i santi eccetera eccetera non mi vado a fare tutti gli aspetti culturali in tal senso adesso siamo a yule quindi abbiamo siamo oggi che voi guardate il video alla vigilia del solstizio d'inverno quindi se nelle vostre città avete quei punti che sono pietre calendario cose varie diciamo che man mano si vanno scoprendo perché ci sono però la gente non li conosce perché si è persa questa cosa per esempio dove vivo io una decina di anni fa hanno scoperto esserci una specie di stone age qui allora è molto sentita in questo senso diciamo questo passaggio di solstizio durante il periodo estivo quindi per il solstizio d'estate diciamo meno sentito nel solstizio d'inverno perché accade praticamente qua all'alba no per cui o comunque di notte fa freddo la gente non ci va anche se non è che siamo voglio dire svezia no detto questo cosa andremo a vedere oggi con una croce celtica diversa e anche con un mazzo di carte che non sono esattamente tarocchi ma se servono li aggiungeremo comunque andremo a vedere degli aspetti molto importanti intanto dove vi trovate tenete conto che vi potrebbe risuonare in tutto e in parte prendete solamente ciò che vi risuona e non tutto paro paro e andate a vedere con questa stesa anche ciò che vi serve sapere in questo momento qual è il consiglio per la cura di voi che vi dà luce che diciamo vi mette anche in evidenza qualche fantasma del passato le tradizioni che avete già consolidato che dovete portare avanti che vi aiuteranno per il vostro futuro quale sarà il vostro zenith per questo 2024 la vostra stella polare quale saranno o sono già adesso diciamo quelle tempeste che state superando e che supererete come va bene quindi adesso andiamo a fare questa stesa e ricordandovi sempre che in questo periodo già che noi postiamo questo video già queste date sono superate però io ve le rappresento comunque dal 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 diciamo come lavorativi però in realtà il periodo è tutto dal 18 a più o meno il 2 di gennaio 2 3 di gennaio dove si possono fare delle letture previsionali estremamente dettagliate precise estremamente diciamo ecco lucide perché come dire a livello di di chiaroveggenza il confine tra il mondo di chi chiaro vede il mondo di chi è chiaro visto diciamo è molto 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 sottile quindi eventualmente approfittatene per le vostre domande per fare insomma ecco chiarezza io vi rappresento anche che ciò che prenotate adesso per chi è ancora possibile farlo ecco per qualche posto che c'è ancora me lo faccio diciamo che so di notte di mattina presto in altri orari perché quelli che sono lavorativi già sono tutti occupati con gli appuntamenti quindi vi registro mi fate le vostre domande vi registro tutto quanto e vi mando ecco il link eventualmente voi chiedetemi lo stesso se lo volete fare in 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 diretta perché semmai metti che c'è qualcuno che disdice ovviamente può darsi che si liberi anche qualche posto quindi ora non è che lo posso sapere giusto va bene direi che possiamo iniziare buon yule a tutti quanti buon solstizio d'inverno auguri di buone feste e speriamo che arrivano cose buone da questa lettura sicuramente sarà così allora per i nostri amici amiche ed amici che seguono questo video cosa devono sapere oggi energie cumulative dei nostri amici affinché possano risuonare in ognuno di loro escono due carte qui forse non riesco a metterle in posizione di croce celtica perché manca lo spazio ma anche se non faccio una croce comunque le carte sono quelle lì giuriamole ok 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 qui escono proprio tantissime carte va bene va bene le valutiamo tutte anche qui escono tante carte va bene direi che dobbiamo partire da queste due carte allora queste due carte prima di tutto ci dicono che alcuni di voi si possono trovare in questa situazione in questo momento quindi dove siete adesso qui oppure qui oppure un po qui un po qui ci siamo in questa prima carta dove abbiamo il raccontare delle storie cosa si vede si vede questa persona anziana davanti a questo focolare a questo camino che racconta delle storie ai propri figli ai propri nipotini non necessariamente una persona anziana per carità cioè comunque una persona più matura di questi bambini cioè gli racconta come si suol dire ecco il mondo fondamentalmente quello che ci rappresenta questa carta e che ci vuole far intendere come te la racconti tu dici dove ti trovi adesso ti trovi in base a come te la stai raccontando tu la tua vita la tua storia vedi ognuno ha la sua verità sicuramente tu ti stai raccontando una tua verità questa verità dal tuo punto di vista può parlare di te stesso per quella che la tua verità o è la tua verità come dire ecco per quello che tu vuoi dire di te stesso e non è una verità oggettiva quindi attenzione a volte per esempio ci può essere ti faccio un esempio no questa nonna che dice il non era un galantuomo era una persona distinta era una persona così era una persona eccezionale dal cuore d'oro di quel di là e magari sta nonna per dire è rimasta vedova a 30 anni quindi quanto sono state sposati 10 anni quanto si sono visti a pranzi a cena però lei diciamo ecco al di là di come sono andate le cose veramente ha questa storia da raccontare vuole tramandare alle future generazioni quindi al suo entourage alla gente intorno a lei quindi questa sua verità di questa persona che lei ha amato e che magari è stata con lei solamente 10 anni per dire no perché poi le circostanze della vita per dire gliel'hanno portata via no ma anziché dire le circostanze della vita me l'hanno portato via sono stata vedova sono stata da sola ho lottato ho faticato ho fatto e detto non mi sono più sposata e tutte queste cose decide di raccontare per esempio che questo era un galantuomo non avrebbe mai potuto amare nessun altro questa non è la verità delle verità perché altrimenti non sarebbe sarebbe una verità per tutti per chiunque vive la sua stessa esperienza cioè non so se ho reso l'idea di che cosa è una propria verità rispetto a una verità che è oggettiva quindi dove vi trovate adesso è una carta che ti dice invita un attimo ti invita a pensare a come te la stai raccontando tu la tua vita la tua storia questa è la tua verità che anche una verità passate il termine o comoda o scomoda comoda se tu diciamo ecco a volte uno vuole avere un atteggiamento a seconda dello scopo di quel racconto no se uno vuole essere incoraggiante rispetto alla propria vita se uno tende a vittimizzarsi quindi molto importante adesso come ti trovi come te la stai raccontando e forse è il caso che tu faccia un po il punto su come te la stai raccontando per esempio su come è andato questo 2023 su come sono andati gli ultimi dieci anni che so nella tua vita lavorativa un fallimento totale grandi successi nella tua vita sentimentale sono passata da una relazione più scalcagnata di un'altra perché sono gli altri scalcagnati eccetera eccetera e come mai ti vai a mettere gente con gente scalcagnata eccetera tutta la società è scalcagnata il governo ok quindi questo per dirti che è arrivato il momento adesso ed è necessario evidentemente anche in base a tutte le carte che vedremo che tu faccia un po il punto su come te la stai raccontando perché perché ci sono storie che si raccontano su di te che anche tu le dici così perché così vengono divulgate e sono anche storie che tu racconti dentro di te ci sono quelle che tu racconti agli altri ad alta voce perché magari ecco in qualche modo controlli pensieri degli altri inserendo un programma in questo senso su quello che devono pensare su di te giusto è una sorta di condizionamento che uno fa senza che in questo senso questo condizionamento sia inteso come negativo ci siamo per esempio ci sono quelle persone che sono un po burbere con gli altri semplicemente perché gli altri vengono a chiedere sempre cose cioè guarda io meglio che indossa la maschera dell'essere burbero in maniera tale che gli altri non ti vengono sempre a chiedere ogni cinque minuti due cose giusto quindi è il come uno se la racconta non è la verità magari è una maschera che una persona ha indossato è anche una storia può essere una maschera ci siamo quindi fate un po il punto sulla situazione rispetto a come è oggettivamente come se fosse di un'altra persona e tu la conosci perché in fondo è la tua e come tu la racconti come decidi anche di raccontarla agli altri quella storia su quell'aspetto se si tratta della vita sentimentale familiare se si tratta della vita lavorativa o questo quello quello è anche l'altro quindi per alcuni di voi si tratta intanto di prendere spunto da questa situazione per altri si tratta invece di una medicina dove medicine qua abbiamo le colombe è una carta che ci parla di perdono di libertà e di nuovi inizi fate conto che con l'inverno come si suol dire more tutto no si inizia dall'autunno cala 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 freddo non c'è più niente poi con i primi te pori per dire cominciano a sbocciare piante fiori frutti eccetera eccetera perché si va dopo l'inverno nella direzione della primavera quindi la rinascita in questo senso quindi con i primi calori col primo calore spunta anche il bucaneve è proprio il simbolo di imbol in questo senso della candelora considerate considerate che questa medicina dice che tu ti trovi in una situazione più forte rispetto a prima significa che tanta sofferenza che tu hai vissuto delle perdite quell'inverno che tu stai passando hai passato già sei un po più avanti magari ecco rispetto a questi qui a questi del telling stories no nel senso che tu hai capito assai probabilmente che hai bisogno di viverti questo inverno di rilasciare tutta questa chiamiamola aridità di gelo per poter imparare a fidarti del nuovo che arriva accogliere relazioni che sono più amorevoli che ti sostengono come a dire no che non c'è sepolcro che non è necessario per arrivare a una resurrezione per la primavera ci vuole l'inverno per il sereno ci vuole la tempesta ok sono dei cicli e tu sei in questo ciclo nella quale hai compreso che rilasciare evidentemente anche un perdono un'amarezza un qualcosa di brutto parliamoci chiaro no è necessario affinché tu appena il momento sarà il momento opportuno tu possa spiegare le ali perché intanto ti sei rafforzata e quel perdono non è un qualcosa che tu elargisci gratis come si suol dire ecco a borrendere a chi ti ha causato del dolore ma serve a te serve anche il perdonare te stessa per chi a chi per per chi scusa aspetta nei confronti delle persone a cui tu hai permesso di causarti un x dolore ci siamo quindi non è un perdono che tu dai per un loro vantaggio no no è un perdono che tu maturi per un tuo vantaggio per un tuo vantaggio ci siamo perché affinché tu ottenga pace e libertà quindi ti trovi già in una situazione di questo tipo che è tanta roba dire che è un buon punto di partenza per dire come 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 ti trovi adesso allora vediamo con questa carta quale sfida tu stai affrontando e qui abbiamo la carta della contemplazione questa carta della contemplazione vede una specie di diciamo di persona un po ferma possiamo considerare una persona che è un po ferma direi che le parole che possiamo intendere che valgono per entrambi per entrambi quelli che si trovano così hanno a che vedere con la riflessione con la revisione con le lezioni apprese significa che tu stai affrontando in questo momento come dire con un momento in cui stai riflettendo e stai facendo dei bilanci e ci sta fine anno ci sta diciamo che non sei lì a fare però effettivamente il ragioniere sei come dire lì a contemplare il netto della tua vita senza la tara ecco perché avevamo il per alcuni di voi qui la medicina del perdono e per gli altri invece la tara è come uno se la racconta ci siamo diciamo che intanto nei momenti freddi come può essere l'inverno è chiaro le cose rallentano in generale per tutto e l'inverno è una stagione come dire ecco privilegiata per la contemplazione fate conto che ancora in inverno ci dovremo entrare quindi ci entriamo ufficialmente dal 22 di dicembre e ne usciamo il 21 di marzo quindi ancora ci dobbiamo entrare in questo inverno quindi questo periodo nella quale comunque entriamo è una tempesta che tu dovrai affrontare perché come dire ecco non sarà facile anche viverti questo momento come dire ecco di 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 contemplazione perché probabilmente per alcuni di voi non ci sarà come dire con la possibilità di viversi chissà quali svaghi rispetto a certi bilanci quindi sarà anche un tempo necessario evidentemente per qualcosa di meglio mi sembra evidente no quindi la tempesta che tu dovrai attraversare a che fare con questo momento che adesso ti prendi da qui ai prossimi tre mesi legato a fare il punto su una situazione cose che avresti potuto fare diversamente cioè fare il punto anche sulle lezioni apprese sapere dove magari hai sbagliato permettendo a certe persone di ferirti per esempio e non tornare più su certi errori non permettere più che avvengano determinate cose nella tua vita salvare quello che è salvabile dopo magari un danno che tu hai subito sapere dove puoi migliorare quindi anche lavorare su quella che è la tua autostima la percezione benevola sicuramente ecco che hai di te non della persona fessacchiotta che magari ecco qualcuno può essersene approfittato e quindi quando c'era quel perdone è un concedersi anche un perdono rispetto alla mala fede degli altri magari ecco un'imprudenza, un'estrema genuinità da parte tua quindi ci sono delle cose evidentemente che da qui a tre mesi saranno una motivazione per la quale ti darai una pacca sulla spalla da sola o da solo quindi puoi riconoscere certi difetti che hai anche se voglio dire ecco non è un difetto l'essere delle persone pure genuine come la neve ma in certi casi può essere un difetto ok quindi è anche un tempo dove in questa presa di coscienza questa contemplazione fai conto che tu vai a pianificare a riprogrammare se vogliamo ecco dal punto di vista emotivo razionale e poi attuale cioè in quello che metti in pratica tutta la tua vita la tua persona con una versione migliorata di te un modello migliorato come le macchine della formula 1 diciamo abbiamo migliorato la macchina tipo così ti sei migliorata come persona vediamo qual è l'obiettivo che tu devi raggiungere quest'anno ma anche in questo periodo di Yule in modo particolare in questo periodo di Yule qui rispetto alla carta che vedo mi vengono in mente gli amici con la quale stiamo facendo il percorso animico tra gli abbonati anzi con l'occasione vi ricordo anche che sono attive le iscrizioni perché ci sposteremo su Facebook nel gruppo Andromeda quindi eventualmente per chi fosse interessato a proseguire ve ne parlo meglio nel video settimanale per chi fosse interessato contattatemi allora così vi devo mandare io l'invito per entrare a far parte del gruppo chiuso perché il gruppo è chiuso lo chiudiamo andiamo avanti poi eventualmente in futuro ci saranno magari altri gruppi per altre persone che iniziano il percorso perché non si può salire sul treno abbiamo un tempo massimo ed è adesso non ci può essere un tempo massimo che fra ancora altri mesi perché già c'è tanto sulla quale stiamo lavorando e gli altri lì non ci possono raggiungere neanche noi dobbiamo tornare indietro ti dicevo qui parliamo di gratitudine e quindi questa è una sorta di stella polare che tu avrai da quest'anno in poi l'avevamo detto per quegli amici lì due mesi diario della gratitudine ma evidentemente cosa significa per loro sicuramente ma anche per altri tra voi che questa gratitudine va a migliorare la vostra frequenza vibrazionale il riconoscimento l'apprezzamento il non dare le cose per scontate può essere difficile provare gratitudine nei momenti in cui diciamo ecco le cose non vanno proprio benissimo parliamoci chiaro se voi siete qua in un canale dove andiamo a vedere questi aspetti diciamo ecco della vostra vita con la cartomanzia anche se non fate un consulto personale è chiaro che diciamo ecco le cose non stanno andando a gonfie vele altrimenti sicuramente non eravate qua giusto ora rispetto a le cose che non stanno andando a gonfie vele dici io come posso provare gratitudine non lo dico io lo diceva il buon Lao Tse che la gratitudine è proprio la memoria del cuore provare gratitudine ve lo leggo proprio dal mio diario dove con grande gratitudine al mio amato gemello ho dedicato questo diario che gli amici ecco abbonati possono scaricare gratuitamente loro hanno il link provare gratitudine non significa semplicemente ripetere grazie 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 no no è provare grazie ma anche ripeterlo poi può anche diventare ecco uno stato d'animo grazie è solo una parola ciò che veramente conta è l'atteggiamento rispetto a una gratitudine a una riconoscenza all'apprezzamento la vera gratitudine è una sorta di felicità incondizionata che ci porta ad aprirci a tutto ciò che c'è alle piccole cose come alle grandi a quelle che non avremmo mai notato e a quelle che invece ci hanno sbalordito a ciò che ci piace ma anche a ciò che non ci piace in questo senso provare gratitudine è una pratica molto potente a volte è difficile essere grati per un dono che ci hanno fatto può risultare semplice ma per una perdita a cosa può servire essere grati per una perdita ecco infatti che essere grati anche per una persona per esempio che vi ha lasciato che si allontana perché proprio magari ecco quella perdita quel dolore quella cosa che non è andata proprio benissimo ha fatto scattare evidentemente qualcosa di buono c'è un del buono anche in quello lì bisogna apprezzare ciò che è venuto di buono da quella per esempio una perdita da una persona per esempio che si allontana qualcosa di brutto che voi sapete quindi voi prossimi tre mesi ma anche il prossimo anno la vostra stella polare ciò che voi dovete mettere a fuoco è proprio la gratitudine che significa un ancora che vi tiene fermi quando il mondo intorno a voi va fuori controllo la maggior parte di noi ovviamente è grata per le cose che sono grandi che sono belle come che so più soldi una vincita una macchina nuova trovare la persona che ti ama ma quando ci sono quelle cose piccoline come anche tipo che so il caffè che ti viene fatto bene la mattina no ecco chi prova gratitudine uno lo dà per scontato tanto io lo so fare il caffè sei sicuro quindi anche la gratitudine per ascoltare la tua canzone preferita per dire che qualcuno l'abbia pure scritta quella canzone che è la tua canzone preferita che l'abbia pensata musicata qualcuno prodotta infine messa in commercio passata alla radio essere grati anche per cose che non ti sono successe dici guarda io sono grata perché quest'anno non mi è arrivato ne un verbale quest'anno diciamo ecco non ho dovuto fare una riparazione alla macchina non ho dovuto riparare un oltrodomestico non sono dovuta andare dal dottore perché sto bene di salute sto bene cioè ringraziare anche per queste cose cioè riconoscerle queste cose no per non avere preso l'influenza quindi ci sono tanti 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 modi e questo dovete portarlo alla luce per portare la gratitudine nella vostra vita perché più lo fate più entrate nella vibrazione del poter manifestare di meglio ok quindi è una carta che ti dice serve come dire commettere la prima marcia per poter manifestare quindi sii grato della tua situazione quest'anno in ogni momento indipendentemente dalle circostanze magari ecco ci sono state delle cose che non hai capito perché ti sono successe ma sii grato comunque confida che quelle cose ti stanno conducendo verso uno scopo che è divino perché se l'universo te l'ha mandato e ti si è appiccicato va bene per te quindi serve che tu provi l'apprezzamento ma pure Gesù l'ha detto passi da me questo calice eppure dice non la mia ma la tua volontà sia fatta è una forma di gratitudine c'è la fiducia la fede in questo senso ecco di cui si permea quella gratitudine no quindi più tu riconoscete anche diciamo ecco la validità in questo senso dei miei video no la gratitudine può essere anche lasciare il like in questo senso un commento essere collaborativi propositivi per fare in modo che anche altri vengano raggiunti cioè non dovete essere avari nell'essere grati in tutte le manifestazioni possibili senza chissà quali grandi salamelecchi ma grati un atteggiamento grato allora quindi il suggerimento anche per gli altri quindi non solo per gli amici abbonati è di tenere questo diario della gratitudine e scrivere ogni giorno una cosa per la quale siete grati per esempio oggi sono grato perché il mio partner è amorevole oggi sono grato perché sono diventato milionario oggi sono grato perché ho lavato i pavimenti ma in fondo erano puliti per dire cioè anche le piccole cose allora quindi mettete a fuoco quest'anno c'è è necessario mettere a fuoco ecco questo vediamo la forza che già avete e qui arriva questa bellissima carta dove si vedono questa si chiama questa energia scusami cardinal medicine corrisponde a medicina cardinale però inteso come partnership onorare il sacro sé inteso come unicità cardinale nel senso in questo senso cardinale infatti voglio dire cioè sostizio d'inverno e sostizio d'estate sono due punti cardinali ok come nord sud est ovest sono i cardini quelli lì non sono il nord est nord ovest per dire quelli che ci stanno in mezzo tra gli altri i cardinali sono propri principali allora qui questa carta vuole dire che intanto una forza che tu sai già di avere ha a che fare con la possibilità o perlomeno l'opportunità di avere una mentalità aperta ok i cardini rappresentano anche i valori quindi la lealtà l'unità l'essere amorevoli l'essere felici quando arriva questa carta che ti dice che sono questi cioè che tu hai dei punti cardinali significa che per qualcuno di voi soprattutto quelli che sono in una situazione ecco di una relazione animica c'è una una medesima frequenza vibrazionale tra te e il tuo partner il tuo gemello e quindi la carta è come se ti dicesse notala questa cosa e sì anche di mentalità aperta rispetto al potenziale di amore che hai e che può essere interessante e diverso rispetto a determinati valori come posso dirti per esempio un punto cardinale per qualcuno può essere ti faccio un esempio io non mi voglio mettere con una persona che è divorziato io non mi voglio mettere con una persona che è più basso di me di 10 centimetri un esempio io non mi voglio mettere con una persona che minimo deve essere laureato cioè ognuno ha per dire certi punti cardinali io non mi voglio mettere con una persona che ha problemi legali per esempio io non mi voglio mettere con una persona che ha problemi finanziari non mi voglio mettere con una persona che ha problemi vincoli per esempio che ha tre figli ognuno ha i propri paletti le proprie cose per essere come dire fedele a se stesso in qualche modo o anche in base a quella che è la propria esperienza uno poi si fa anche i propri punti cardinali ora tu hai i tuoi punti cardinali e questo è vero ma per chi ha una persona specifica in mente ripeto a maggior ragione vale per chi ha un gemello devi comprendere proprio che certi paletti vanno allargati cioè va allargato il tuo orizzonte rispetto a il paletto che hai il tuo punto cardinale che può essere sicuramente interessante e valido ma allargare l'orizzonte diciamo può essere non meno straordinario del paletto o del cardine che hai tu ok quindi i cardini questi animaletti qua che vedi sono animali monogami cioè si accoppiano per la vita come i lupi i delfini i cigni ce ne sono diversi ecco perché vi parlavo di rapporti animici no quindi qualsiasi nuova relazione nei prossimi mesi che potrebbe essere anche una relazione per quanto non in itinere potrebbe avere il potenziale per portarvi ad un'unione come dire ecco definitiva quindi a una riunione in questo senso a lungo termine ok quindi perché in un rapporto animico vi porta nella riunione per chi è invece diciamo ecco con una persona in mente vi potrebbe portare a stare insieme semplicemente però ripeto anche allargando i vostri i vostri valori questa carta ti dice che tu devi essere consapevole ma in parte già lo sei che accogliere una persona nella tua vita veramente non misurarsi come in una competizione ma accoglierla non significa perdere te stesso cioè accolgo te perdo me ma significa fare in modo che diventi un tutto senza perdere ciò che a te ti rende unico è come dire con valore aggiunto quindi il tuo senso di sé diventa una risorsa anche per il tuo partner quindi perché tu cosa porti nel tavolo quello che manca all'altro e l'altro quello che manca a te in questo senso di complementarietà quindi ricorda che diciamo ecco si crea questa alchimia tra te e il tuo partner che è la cosa più importante e dalla quale scaturisce l'amore ma è proprio un fatto chimico che ci si innamora di persone che sono totalmente diverse da noi totalmente diverse da noi già in generale allora allora quindi questo corrisponde a quello che tu hai già già hai qualcosa che tu hai già quindi la persona in mente tu già ce l'hai parliamoci di a qui abbiamo il suonare diciamo ecco le campanelle questa è una carta che ci parla dei tuoi fantasmi del passato cosa significa suonare le campanelle quando passano le rn no passano le rn uno sente il rumore diciamo sta passando stanno passando le rn no ci sono anche le strende natalizie non so se avete idea nelle vostre città se passano no qua noi abbiamo il comune in distesto non hanno messo manco una stella di natale per dire comunque cosa di cosa parla questa carta che ci mette in evidenza un fantasma del passato l'esilio l'asilio le campane si per esempio da noi quando passa quello che vende la granita come cibo di strada suona la campanella quindi questa è una carta che dice suona la tua campana e balla cioè non ci deve essere nessun posto dove tu ti devi nascondere come posso dirti come posso dirti come posso dirti ti facevo l'esempio prima passa la strenda di natale siamo felici perché già aumentano le vibrazioni suonano le campane della chiesa uno sa che inizia la messa e uno è felice che sono le campane della raccolta suona la campana come nei film della casa della prateria si mangia la campanella della scuola la ricreazione la campanella della granita sta passando quello che vende la granita ci siamo capiti giusto quindi la campanella intesa come suonare la campanella qualcosa che ti porta a purificare le energie cosa significa i fantasmi del passato quando suona la campanella d'allarme evidentemente ci sono delle cose legate al tuo passato che te le devi proprio lasciare alle spalle non ci devi proprio pensare più basta quei nuclei di morte come dire con la paura che possano ripetersi non te li portare appresso come carico come valigia come bagaglio un conto è l'esperienza un conto è la paura ecco il suonare la campanella significa avere vibrazioni alte positive i fantasmi del passato sono legati alle paure il suonare la campanella potete considerarlo anche come un bias o bias a seconda di come lo volete dire in italiano e in inglese cognitivo quando uno suona la campanella a scuola uno sa che la ricreazione è finita la giornata di scuola oppure suona la campanella si entra in classe a seconda dell'orario giusto uno ha già interiorizzato che al suonare di quella campanella associa quel suono a un qualcosa a un evento quindi in questo senso le carte ti stanno dicendo che tu del passato devi perché questa cosa ti può influenzare nel tuo futuro e non in meglio diciamo ecco ci sono certi campanelli di allarme che non te le devi associare a un segnale di pericolo gli devi cioè gli devi dare un significato nuovo eventualmente eventualmente al massimo questo ma non diciamo ecco ah vabbè io so già so già dove va a parare questa cosa quindi avere il pre giudizio proprio perché ci sono già dei bias cognitivi in questo senso che ti mettono in allarme ok quindi questo è un fantasma del passato sulla quale devi lavorare perché lo devi bandire completamente oppure lentamente e anche amorevolmente quindi lasciare anche una brutta abitudine su un qualcosa che è negativa per te quindi a purificare in questo senso le energie allora andiamo a vedere capodanno inizio dell'anno cosa puoi aspettarti guarda abbiamo qui la tempesta va bene sembrerebbe che non è una carta proprio super positiva riguardo a questo capodanno perché poi sai come si dice come passi il capodanno lo passi tutto l'anno quindi se uno passa un buon capodanno dice allora passerò bene tutto l'anno se passerò un capodanno come dire in difficoltà sarò in difficoltà tutto l'anno eccetera eccetera qui questa carta parla di tempesta attenzione perché non è così nero quello che sembra fai conto che qui la parola chiave è legata alla sia all'interno che all'esterno ci sono tempeste in arrivo senza dubbio legate al cambiamento ok quindi quest'anno tutte le difficoltà che tu potrai avere sono legate al fatto che tu devi cambiare che tu sei in una energia che ti deve portare al cambiamento un'energia aspettate che qua devo mettere sotto carica il telefono secondo se no mi si spegne all'improvviso anzi controllo sì vabbè ce la stiamo facendo non vorrei se no poi mi sconcentro rispetto alla lettura potrebbe arrivare come dire una tempesta una difficoltà ok una prova mettiamola così però questa prova è legata a un cambiamento enorme considera che già queste carte stanno ventilando grandi cambiamenti per te quindi ovviamente siccome a nessuno piace come dire coscire con la tempesta di neve a nessuno piace affrontare come dire ecco mi viene in mente quando piova a Catania che veramente c'è veramente c'è stata una volta che dalla pioggia io non è che ero bagnata e avevo l'ombrella avevo tutto impermeabile tutto quello che uno deve avere ci volevano veramente gli stivali per attraversare il fiume in Vietnea e considerate che tenevo bagnate pure le mutande quindi non mi faceva piacere attraversare quella tempesta però lo dovevo fare perché comunque non potevo rimanere lì dovevo tornare a casa quindi ho dovuto farlo e in quei pochi istanti da lì a prendere il mezzo per andare a casa è chiaro che ci sono state delle difficoltà in questo senso immaginate le difficoltà che vi permeano come l'acqua non la potete evitare anche se voi avete come dire tutto ciò che vi può riparare però questa questa tempesta non è legata al buttarti giù ma è legata al fatto che tu ti rafforzi cioè sapere che ti arriva una tempesta può essere come dire qualcosa che ti porta ad essere inquietata inquietata agitata impaurita quasi ma a te serve sapere che arriva la tempesta dice ok sta arrivando la tempesta vedo che sta arrivando un cielo nero sapendo che tu ti puoi preparare sapendo anche che ti puoi bagnare e fracicare ma sapendo anche che poi passa e che comunque poi arriva qualcosa di meglio quindi sfruttare la tempesta ok tenete conto che ci sono anche quelli che sfruttano l'energia dei fulmini per dire no ecco cercate di fare anche voi la stessa cosa quindi magari ecco il capodanno potrebbe non essere proprio o potrebbe essere significativo di un inizio dell'anno diciamo ecco un po' però non è che significa che è brutto ripeto potrebbe essere semplicemente un po' tortuoso un po' un po' diciamo che vi tocca uscire dalla vostra zona di comfort e può essere anche questo il cambiamento che quest'anno significativo per tutto l'anno è che voi dovete uscire dalle vostre zone di comfort per affrontare le tempeste e da lì essere sempre più forti impavidi coraggiosi andiamo a vedere come puoi procedere in questo senso al meglio nel corso dell'anno abbiamo una carta che ci parla di solstizio e dice all in all of the cunning è una parola è una parola chiave scusatemi è una carta che parla di un fuoco che è acceso dentro di te e quindi ritrovare te stessa nella tua autentica autentica verità che non significa che tu devi essere trasparente con gli altri ok ma rispetto a quel perdono che ti serve per essere pienamente te stessa e qui rispetto a come te la racconti raccontarti la verità punto oggettiva quella che è perché questa può essere una buona base di partenza per tutto il resto dell'anno e anche per questi cambiamenti per questo che sarà il miglioramento ecco della tua vita allora significa che a te serve diciamo ecco procedere nel corso dell'anno e anche già a partire da subito da questo yule fino al prossimo anno dove magari andremo a vedere altre cose se ci campiamo praticamente che c'è una bellezza che tu hai nascosto per troppo tempo come dire sotto la neve e quindi a tirare fuori questa bellezza questo fuoco fai risplendere la tua luce interiore ricostruisciti risanati permettiti di volare divertiti diciamo ecco permetti anche attraverso questa stagione come l'avevamo visto di questa contemplazione proprio di scivolare permettiti di andare nel buio più buio che c'è e da quel buio il buio più buio che c'è come dire ecco quel fuoco di questo solstizio perché è proprio adesso questo è il fatto no? che manca il fuoco come elemento rispetto a quella che è la come dire la composizione elementale della stagione acqua fuoco terra aria ma anche il fuoco adesso giusto? e beh questo si chiama stagione fredda quindi permettere al fuoco di entrare nella tua vita poi su che cosa significa esattamente al fuoco di entrare nella tua vita come spazio elementale ovviamente qui ci sarebbe da parlare per settimane se non addirittura ecco per mesi però io quello che posso dirti è proprio quello che ti dicevo prima cioè avere mordere la vita avere voglia di vivere ritrovare le energie la fiducia in te stessa abbattere ed eliminare i pesi emotivi che ti stai portando cioè stai in questo spazio di guarigione con questa contemplazione per poi guarire attenzione per poi guarire quindi a fare anche questi progetti no? è come se tu vai a fare e devi stare attenta a mantenerti devi stare molto attenta a mantenerti a non permettere alla gente quando uno ti dice caspita questa persona mi spegne hai presente no? quindi anche a evitare quella gente che in qualche modo ecco ti spegne e invece lì dove ti manca il fuoco a te a stare vicino ad una persona che ti dà fuoco che non sia troppo fuoco perché il troppo fuoco come spazio elementale ovviamente praticamente brucia tutto quanto quindi fa terreno bruciato come si suol dire quindi a stare attenta a questi equilibri elementali rispetto all'energia anche delle altre persone quindi è una carta che ti dice attenta perché tu hai la possibilità letteralmente di risorgere dalle ceneri e di volare come la rama fenice ok e questo è esattamente il modo nella quale devi procedere eventualmente per degli aspetti che vanno approfonditi io non posso essere esaustiva in questo video perché il tempo è anche quello che è ognuno ripeto potete andarli a approfondire ognuno ecco per i fatti vostri questi spazi elementali di equilibri no? in questo caso come puoi superare le situazioni che possono essere quest'anno come dire un po' spinose come si possono superare qui abbiamo questo gesto lasciare andare lasciare andare ma anche benedire benedire e lasciare andare benedire e lasciare andare guarda i ceppi di Natale vengono bruciati per 12 giorni perché? perché rappresentano questo sole nascente e quindi la nascita di un nuovo dio del sole tanto è vero che appunto le giornate cominciano ad essere un po' più lunghe tanto è vero anche per quello che è il Natale antroposofico si capisce molto bene lì in astronomia in astrologia si capisce anche in esoterismo si capisce anche nella Chiesa Cattolica e infatti hanno attribuito al 24 dicembre praticamente la la vigilia di Natale quindi no? come la nascita di Gesù come nuovo sole che illumina la nostra vita in questo senso no? quindi ciò che sostituisce questo sole come era invece per i pagani no? i ceppi di Natale sono decorati sono decorati per dare questa allegria natalizia vengono accesi anche sapete con le 4 candele di avvento per esempio anche a turno vengono accesi anche per attribuire al loro X desideri come? accendendo la candela per esempio anche nel compleanno non uno esprime i desideri l'elemento del fuoco significa che per superare delle situazioni quest'anno è importante che tu in un certo senso faccia una sorta di memoria di quella cosa lì e poi la lasci andare come dire come si fa con questo ceppo di Yule lo puoi scrivere su un foglio e decidi io voglio lasciare andare questa cosa un risentimento questa cosa del mio passato in maniera tale che tu puoi andare avanti con maggiore determinazione perché finché tu non accogli la stagione in cui tutto muore non ci può essere rinascita semmai arriva quel vuoto non può esserci come dire niente che sbucata sotto la neve se non c'è la neve non lo vedi il bucaneve ci siamo se non c'è l'inverno non può arrivare la primavera il senso è proprio questo qui perché proprio con il sole che via via aumenta che poi arriva al suo massimo appunto con l'estate quel calore che aumenta permette proprio alla vita di rinascere ecco perché i cicli della natura sono importanti e noi dovremmo essere allineati a questi cicli della natura le donne anche al ciclo della luna va bene andiamo a vedere a questo punto ciò che ti serve sapere in questo momento per questo tour 2024 abbiamo qui quattro carte e quindi a qualcuno di voi per qualcuno di voi sarà importante sapere questo 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 o questo o questo o questo o questo oppure tutte e quattro le cose prendete ovviamente ciò che vi risuona perché ovviamente quindi siete in tanti e le energie come dire ecco sono sono diverse andiamo a vedere qui abbiamo candle magic la cerimonia l'ora del buio quindi vedete sapete voi ciò che vi risuona anzi fatemelo sapere in questo senso e con nei commenti con l'occasione metto anche queste carte così mi vengono più comode ad aprirle adesso allora cosa dovete sapere abbiamo qui le candele magiche la spirale magica king of the spine intenzione preghiera e questa è la parola che si può attribuire a questa a questa carta la speranza tu sei in grado di creare come dire ecco tu stessa diciamo ecco la magia della tua vita quel stare bene le vacanze sono un bel periodo significa che per qualcuno di voi significa anche non dico come dicevano dei giornalisti no non erano dei giornalisti adesso non mi ricordo come si chiamava quel gruppo una vita in vacanza una vecchia che balla non mi ricordo come si chiama il gruppo perdonatevi perdonatemi come si chiamava non mi viene in mente vannaggia no non mi ricordo non dico che deve essere così una vita in vacanza ma sicuramente a vivere più momenti di vacanza più momenti di serenità perché sono quei momenti di vacanza che sono necessari per rivedere quelle che sono le tue intenzioni per il futuro per invocare quello che ti serve per il tuo futuro per avere la speranza anche di giorni più luminosi uno perché non si vive mica solo per lavorare giusto quindi anche in questo senso accendere come di usanza una candela e pregare per manifestare quello che è una propria intenzione perché quella è la preghiera affinché la divinità la possa anche accogliere la tua intenzione ovviamente se gradita è giusta ritrovare anche questa luce dentro di te questo spazio dentro di te quindi diciamo puoi anche come dire ecco per un verso avevamo visto quel rilasciare no quello che ti serve nel corso dell'anno quindi prima rilasciare e poi ma non subito metterti nelle condizioni di manifestare ma parleremo anche meglio e diffusamente soprattutto con gli amici ecco abbonati o quando passeremo nel gruppo andromeda di manifestazione tutte le condizioni cioè non è che uno si alza la mattina e comincia a manifestare perché sennò veramente uno fa disastri più che altro allora per altri o anche in più rispetto a quello che abbiamo visto arriva questa carta che ci parla di this is the circle of the life cioè il cerchio della vita abbiamo un'altra ghirlanda qui eternità crescita il simbolo del cerchio rinascita in questo senso no cioè la vita vedi scorre come un cerchio come questo cerchio delle stagioni che abbiamo visto prima c'è un ciclo di bene e di male devi sapere che diciamo ecco la ghirlanda ci deve fare capire che le cose hanno il loro corso e il ricorso come diceva Gian Battista Vico e anche i periodi brutti non durano per sempre e anche i periodi belli non durano per sempre ma ti stanno anche dicendo che per questo 2024 per te arriva un punto di svolta un punto di svolta attenzione molto positivo se tu fai questo percorso e quindi è come se se per te si aprissero nuove strade inesplorate come se tu avessi pensato beh la mia vita ormai è questa qui invece no se tu cambi certi paradigmi come abbiamo parlato prima Gianne con le carte precedenti si aprono nuove strade cose che tu neanche le vedevi ok quindi anche se ci sarà un momento di isolamento durante questo periodo di inverno è tutto come dire ecco per il meglio del meglio del meglio del meglio per altri qua abbiamo la carta della cerimonia ma può anche essere abbinata a qualche altra carta di queste quattro quindi ecco un plus o solamente questo questa carta della cerimonia ricorda che delle cose nella vita in qualche modo diciamo ecco vanno celebrate significa che c'è per te quest'anno una sorta di rito di passaggio un punto come dire ecco anche di non si può essere più come prima si passa a qualcosa di nuovo per esempio mi vengono in mente i bambini che fanno la comunione i bambini che fanno la cresima chi va all'università e quindi finisce le scuole superiori per fare una scelta di vita importante quindi il percorso di studi che lo porterà alla realizzazione personale chi decide la data del matrimonio chi direttamente si va a sposare o va a convivere chi deve affrontare una sfida nuova nella propria vita come un nuovo lavoro mettersi in proprio questo è la cerimonia come dire che è un rito di passaggio rispetto ad un'intenzione rispetto ad una nuova direzione ok quindi qualcosa che è legata alla fine di qualcosa all'inizio di qualcos'altro ma attenzione su questo rito di passaggio è importante un aspetto non avere dubbi non dubitare prima di tutto di te stessa sappi che tu ti sei guadagnato quel posto rispetto a quel rito di passaggio ok attraverso le lezioni attraverso tutto questo lavoro anche che devi integrare devi comunque fare quelle azioni correttive di cui abbiamo parlato attraverso le sfide le difficoltà che attraversi sta tempesta che abbiamo visto che già parte all'inizio dell'anno questo momento di contemplazione ok quindi non dubitare anche se adesso magari non la vedi sta primavera non avere dubbi né ora e neanche dopo perché quest'anno ci sarà per te un passaggio veramente una pasqua la pasqua significa proprio questo passaggio ok l'ultima carta darkest hour significa sempre legato a come dire ecco un qualcosa che ti serve sapere di questo momento è legato in questo caso all'ora più buia perché in questi giorni rispetto a quando ci sarà il solstizio diciamo ecco ci sono pari ore di cioè si va verso a una parità tra ore di luce e ore di buio quindi proprio come quel giorno no si trasforma in notte significa che anche l'anima deve attraversare periodi di alti e di bassi ok quindi questo tu lo devi sapere un periodo negativo è chiamato anche notte oscura dell'anima ed è quello che può accadere o la condizione nella quale si possono trovare in questo periodo in modo particolare gli amici che sono in un percorso animico che sono fiamme gemelle o comunque sono in un periodo di risveglio della loro coscienza anche chi non è con una fiamma gemella che è un'altra persona tutti prima o poi fanno esperienza di quella che è la notte oscura dell'anima ne parla molto bene san giovanni della croce proprio c'è un libro in questo senso che parla di questa notte oscura dell'anima e che può coincidere con dei periodi di stress o anche di disagi estremi diciamo che per chi si trova in questa situazione o si troverà in questa situazione tu devi sapere or in questo momento che magari può essere importante esaminare ciò che è assolutissimamente ecco necessario rispetto a quest'ora buia che prelude la tua felicità quindi sei guidata a trovare la vera felicità nel tuo spirito dentro di te e poi fuori di te cioè la felicità dentro di te la gratitudine tutte queste cose che abbiamo visto attirano cose per cui essere ancora maggiormente grati motivazioni per cui si è felici come quando si dice chi è fedele nel poco è fedele nel molto chi è felice è grato del poco è felice è grato del molto ok quindi non avere paura del cambiamento perché la vera paura in realtà non è rispetto al cambiamento la tua vera paura deve avere ben chiaro che può essere legata al lasciare andare ne abbiamo parlato qui va bene quindi queste cose tu le devi sapere può essere una tutte e quattro tre due di queste cose di cui abbiamo parlato adesso l'esito quest'anno questo Yule un pre-esito è un esito definitivo rispetto a questo 2024 ha a che fare con una carta che ci parla di qualcosa di sconosciuto lo sconosciuto che significa diciamo come potrei dire think on it and when the depth being boring our desire cioè pensaci e inciamperai perché il cuore è un fantasma nell'ignoto lascialo sanguinare nelle profondità portando solo desiderio lo sconosciuto l'ignoto ciò che è ignoto per ora ovviamente l'esito è ignoto come dire ecco perché dipende anche tutto quanto dal tuo libero arbitrio giusto perché non necessariamente come quando vi dico anche nei consulti privati no cioè si mette un vincolo rispetto al futuro tu hai sempre una scelta rispetto al futuro puoi sapere che le cose possono andare così ovviamente se tu assecondi tutto quello di cui abbiamo parlato ma ovviamente se tu prendi un'altra direzione che non la secondi che non ti vivi questo e sei magari ribellata che non riesci a lasciare andare determinate cose che non hai quella fiducia in te stessa tutte queste cose di cui abbiamo parlato adesso è chiaro che ti porta un certo grado di incertezza rispetto al tuo futuro quindi premessa e patto che l'esito è sconosciuto giusto però significa anche che questo esito sconosciuto è come un biglietto rispetto al fatto che tu puoi decidere di correre dei rischi oppure no rispetto a quei cambiamenti che non sono la realtà la paura dei cambiamenti rispetto all'ignoto ma la paura a lasciare andare le tue zone di comfort ricordatelo quindi questo proprio mettitelo come con un post-it sullo specchio del bagno così te lo devi ricordare tutto l'anno un altro esito che può essere un plus rispetto anche a quello che abbiamo già visto ha a che fare con frost sarebbe tipo il gelo la brina il ghiaccio come posso dirti anche la gelata avete presente la gelata più che altro le classiche gelate invernali diciamo che significa per qualcuno di voi anche può significare che qualcuno di voi decide di imparare l'arte della divinazione per esempio di voler vedere o comprendere o imparare l'arte dei mondi come si può dire coinvisibili ciò che c'è al di là dello specchio che non è necessariamente diciamo che al di là al di qua dello specchio c'è la madrigna cattiva di Biancaneve giusto quel famoso specchio specchio delle mebrame di Michela più bella del reame ovviamente diciamo quella donna stava compiendo una sorta di divinazione veniva associato tutto ciò diciamo a qualcosa di negativo ma perché in lei c'era quell'invidia nei confronti di quella ragazza ma ovviamente la divinazione deve avere il valore positivo perché non deve essere come dire un modo per fare le scarpe a qualcun altro capiamoci perché quello vi si ritorce contro così come è successo nella favola appunto di Biancaneve come ben sapete quindi sei guidato quindi ad avere anche più consapevolezza e fiducia rispetto anche a quelle che sono le tue intuizioni e previsioni rispetto all'anno prossimo quindi rispetto a ciò che vuoi perché se tu lo vuoi prevedi che è possibile io per esempio non posso prevedere di andare sulla luna magari chissà pure capiterà però neanche lo metto nel conto quindi uno sa fino a dove può arrivare ci siamo ciò che è impossibile per quanto o possibile per quanto difficoltoso uno lo sa uno lo sa quindi affidarti anche in questo senso delle delle tue capacità un altro aspetto ha a che vedere rispetto all'estito di quest'anno con un ulteriore aspetto curativo qui abbiamo il cerbo cerbiatto la medicina della renna forse è una renna reindeer qui si parla di viaggio di forza interiore di lottare per i propri sogni le renne sono creature belle e robuste a differenza di altri animali questi questi tengono le corna tutto l'anno o non significa voglio dire che l'esito è che quest'anno sarete cornuti facciamo una battuta anche per alleggerire un po' questa stesa che è molto molto forte molto pregna di tante intenzioni no significa che l'esito rispetto anche a queste incertezze è legata al come dire prendersi la responsabilità di sopportare anche ulteriori responsabilità per perseguire i propri sogni ci siamo stiamo parlando di questo quindi l'esito dipende da quanta percentuale di responsabilità di prendi e di rischio rispetto al inseguire i tuoi sogni scusate ma sappi anche che quei sogni sono assolutissimamente a portata di mano assolutissimamente raggiungibili infine abbiamo questo ultimo esito che ha a che fare con l'allegria bellissimo quindi un finale come dire col botto felicità seguire la propria anima gioia gioia che irradia dal suono delle voci dalla compagnia dal lucicare il domani dove la vita ti sorride ok quindi quindi diciamo che in questo senso per alcuni di voi l'esito sarà anche se voi soprattutto vi rivolgete agli antenati in questo senso non avete una connessione li andate a trovare anche al cimiterio li portate in arrosa quello che è avete un pensiero nei confronti di chi ci ha lasciato l'appoggio da parte di tutto il vostro albero genealogico perché noi alle spalle signori abbiamo milioni se non miliardi di persone che rispetto alla loro capacità di amare non amare io non è che dico che tutti si sono amati però sicuramente tutti hanno fatto l'amore o anche voglio dire una botte via non lo so però grazie a loro noi oggi siamo qui anche avere gratitudine rispetto a questo a prescindere da quanto noi siamo grati a sta vita perché siamo diventati come dire ecco i sindaci di Arcole oppure no per dire no diciamo che è una carta che ti dice che l'esito di quest'anno è legata alla gioia per qualcuno può trattarsi di un percorso animico di successo per qualcuno si può trattare di un cambio di carriera per qualcuno si può trattare di una felicità come dire ecco che si raggiunge come dire con la benedizione totale tu lo senti dentro di te che è come dire ma avevamo visto che quest'anno ecco per voi potrebbe essere proprio l'anno della svolta per molti di voi quindi assecondatele queste energie così da qui al 2025 cambia tutto il mio pubblico e direi molto bello molto bello perché tra l'altro ecco la chiaroveggenza serve certamente per aiutare gli altri di certo non a tenerli legati per stare lì sempre a vedere quando si risolvere i problemi quando si risolve come andrà come non andrà quindi un po' ad alimentare uno stato di ansietà e di paura invece no la sana chiaroveggenza serve invece a liberare le persone ad avere più fiducia nella vita più fiducia in se stessi e quindi a come dire ecco capire quali e a riconoscere quali energie evitare tenersi alla larga come abbiamo visto in questa lettura e invece quelle che si devono accogliere e anche dargli ossigeno in questo senso affinché le cose possano certamente comigliorare va bene detto questo chi va ai consulti come ovviamente quello sa quali sono gli esiti detto questo spero che questa lettura vi sia piaciuta io vi auguro buon solstizio d'inverno buon percorso per tutto il vostro 2024 buon anno a tutti buone feste e fatelo valere amici carissimi fatelo valere perché l'esito come avete visto è veramente fuori era di più grande felicità rispetto a quest'anno e rispetto anche a delle difficoltà che magari ci possono essere solamente in questo periodo invernale un bacione alla prossima a chi non dispiace lasciatemi like e aspetto di leggere nei commenti anche come dire in questo senso e con le vostre speranze ciò che vorreste che si manifestasse quest'anno quello che vorreste condividiamolo un bacione alla prossima al prossimo video ciao